Qui sta tutto procedendo abbastanza bene, si cercano sempre di più i volontari perché ci sta sempre bisogno, però siamo molto uniti tra di noi e ognuno ha dei ruoli ben precisi. Il mio è quello nell'animazione, è un po' il jolly nei trasporti, è comunque quello che serve. Io mi occupo di vigilanza comunque. Tiene tutto sotto controllo? Sì, abbastanza, sono appena arrivato e da oggi inizio anch'io a dare il mio modesto ma spero importante contributo. Invita davvero la gente a dare una mano, anche per me quest'anno è la prima volta, quindi è la prima esperienza che faccio. Anch'io come lui sono addetto alla vigilanza ma per necessità mi hanno trasferito qui dentro a dare un'occhiata che non si intrecciano i martelli con i giavellotti, con la gente che corre. Non siamo tantissimi, comunque dobbiamo fare degli extra comunque sia come orari come disponibilità. Comunque ci si fa con il cuore perché comunque è una cosa che sentiamo dentro. Ci danno anche questi atleti una forza perché comunque solo vedendoli quello che loro ti trasmettano è una cosa che viene proprio dall'animo.